Allora Marco, guarda, ci sono gli amici di Girodisco, il nostro vlog che guarda lì. Benvenuti, questo è il video di notte Reunion, Flower Power, il video di notte, ciao, ciao, ciao. Per chi vuole l'amore, per chi vuole la pace, la mano, la mano. Londra è in zona. Sarei voto speciali del Girodisco. 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 La nota è Flower Power. L'aparaggio. Il livello di Girodisco. Sarei voto speciali del Girodisco. Sarei voto speciali del Girodisco. puoi lasciare ogni divisione ciao Antonella noi siamo i figli e i fiori noi siamo i figli e ciao ciao canta la sedia ciao ciao l'arrivazione del ciao ciao Marco Gramba io sono veramente contento che si fa con noi tanti auguri lo sappiamo noi perchè adesso la linea e la musica ci ha fatto sognare tante notti ci può sognare anche questa notte Alex Terzia ciao ciao si va ciao 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 buonasera benvenuti iniziamo così buonasera benvenuti ci ricordiamo gli anni che furono i vecchi anni anni 80-90 ciao ciao signori siamo un piedi anni 90 Mario Cello Fai il passaggio e questo è la versione insieme di Dario Marte, Sì Mario! E l'unico in Xochò! Sì 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 Grazie a tutti. 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 It's the drums. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.